good morning si in effetti qui sono le unici precise ma come dico in questi casi non proprio mattina prestissimo ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente ooooh semplicemente David Lynch it's february 26 2022 and it's saturday eerie naples rainy morning very still right now and and with these degrees this means that non è quella giornata è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo anche se come sempre invito a vedere sempre il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo il freddo perché è impossibile ma quanto meno di combatterlo si per quanto riguarda il video sui pensieri come sapete dal primo gennaio di quest'anno lo faccio sempre separato al report quindi nel caso come sempre interessa occhio che è separato anyway as he and you all just see from the window absolutely today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine I think that is after noon anche se ormai è mattinata è un'altrata the temperature sarà penso la stessa o qualche grado in meno ma vedremo però appunto non dico la mia frase che altro perché non penso proprio che le cose cambino quindi ci teniamo questo brutto tempo per oggi ma speriamo a questo punto per un tempo migliore direttamente domani say that is so from the mythical window with the regarded curtain ringraziamo sempre l'inquagliatura che nella bruttezza del tempo la rende comunque bella and it's a green roller shooter behind me on the top not visible in fact here in this shot and finally from the mythical keyboard di amadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people who follow the channel and the reports si un saluto veramente a tutti a domani ho il video pensiero nel caso lo faccio wonisó and 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 and